E' stato sottoscritto un accordo tra Regione Abruzzo ed ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino per il controllo delle specie esotiche invasive, una delle principali cause di perdita della biodiversità in Italia e nel mondo. Si tratta di specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente e occidentalmente sul territorio nazionale e che hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo stato selvatico, tanto da rappresentare una vera e propria minaccia per il nostro patrimonio naturale. Lo ha reso noto il Vice Presidente della Giunta Regionale con Delega all'Ambiente, Parchi e Riserve Naturali Emanuele Imprudente. Queste specie, infatti, è dichiarato imprudente, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat degli ecosistemi naturali e provocare anche ingenti danni economici ad attività produttive come l'agricoltura e le risorse silvopastorali. Per contrastare tali impatti, la Regione ha sottoscritto un apposito accordo, individuando il Parco Regionale Sirente Velino, quale ente coordinatore sul territorio regionale, per l'attuazione degli interventi di controllo delle specie isotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.